Vediamo come mettere un DDT di reso a fornitore. Verificare innanzitutto che nel menu documenti, tra i modelli di documenti preferiti, sia già presente il DDT di reso a fornitore. Nel caso non sia presente, verificare che invece non sia fra i documenti non preferiti, cioè tutti gli altri non visualizzati in questo elenco. Entriamo nella voce Tutti i documenti, premiamo Nuovo e verifichiamo la presenza dell'eventuale DDT di reso. Se anche in questo scenario non è presente, allora a questo punto occorre definirlo. Andiamo in Tabelle documenti, Modello documento, selezioniamoci un DDT più simile a quello che vogliamo fare, in questo caso il DDT di vendita. Lo duplichiamo, lo rinominiamo, reso a fornitore, tipo di documento è un DDT emesso, la causale è un reso su acquisto. Tutto il resto può rimanere invariato. Se lasciando selezionato mostra nel menu, al riavvio del software comparirà tra i modelli predefiniti. Per quanto riguarda la numerazione, se si intende continuare la numerazione di tutti gli altri DDT che si emettono, non occorre fare nulla, altrimenti inserire una parte alfa diverso come ad esempio R per iniziare una nuova numerazione. Salviamo, richiede il magazzino obbligatorio, salviamo, chiudiamo, riusciamo e a questo punto la voce di DDT di reso sarà presente nel menu e potremo emettere l'IDT come qualsiasi altro documento.